Ciao ragazzi, prima di lasciarvi al video che tutti voi stavate aspettando, vi ricordo di mettervi la sveglia perché questa sera, se tutto va bene, alle 8 iniziamo Assassin's Creed. Valhalla, non ve lo perdete, non mancate, vi aspetto in tantissimi. Ciao, siamo ancora vivi? Prima di lasciarvi al video che tutti voi stavate aspettando, perché lo so, mi avete preso in giro per giorni, avete mandato in giro le mie clip ovunque, deriso e schernito da tutti, perché, oh my, ragazzi, io ho mezzo cuore. E nonostante tutto, siamo arrivati fino alla fine. Quindi ragazzi, spengete le luci, mettetevi le cuffie e niente, niente, guardate che è successo. Ti prego John, smettila di trattarmi così. Fate piano, per favore. Oh! Voli forse! Cioè? Cioè, i poteri, la bambina, però non può essere la stessa bambina, perché qui, Siamo un po'... AAAAAAAA! Oddio, santo, mamma mia, no, 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 così, oh! Siamo un po'... AAAAAAA! Oddio, santo, mamma mia, no! Ma no! Aiaiaiai! Sentite, ricordiamoci che io ho mezzo cuore. Bambina! Bambina! Oh. Ma vaffanculo! Porco due, 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 porco due. Ho spostato la telecamera, guardalo. Ma no! Oh, e guarda, mo' iniziamo, eh, guarda, mo' iniziamo, eh. AAAAAAA! Ma vaffanculo! Oh, no! Oh, no! Sacre bleu! Ma te stavano, ma aspetta a te, Taylor! Vabbè, questi due hanno un intrallazzo. Lui proprio sottone, lei invece ci giochicchia un po', e appunto potevamo pure tirarcela un po' di più. Mori bene il ca... Oh, black assi! AAAAAAA! Goddiaz! No! Lo sapevo che tanto succedeva una cosa di questo genere, cavolo. Mi sono dato proprio una sfrustata al collo. Azzo, Pepperu. Chi è questo? Soffriva chiaramente di epilessia, no? Però ai tempi, ragazzi, cioè... Si credeva di più al maligno, no? Ehm... AAAAAAA! Eh, che cazzo! Ma io me lo devo aspettare, cavolo! Io lo so! Io lo so! Se cambia inquadratura succede! Succede! Ehm... AAAAAAA! Eh, che cazzo! Ho messo a affamare qua, ragazzi, i muscoli. Ho talmente... Senti sta musichetta, come va? ALCO D*****! Eh, no, scusate, ragazzi, scusate, scusate, scusate. No, vi chiedo scusa, vi chiedo scusa. Che è Voodoo? Oddio, santo. No, no, aspetta, oddio, la bambina! AAAAAAA! Vaffanculo, basta oggi, basta! Basta, per favore, basta! Per favore, basta! Basta, per favore, sta a casa da solo! AAAAAAA! Piccola bambola, fatta a mano, ha subito danneggiamenti! AHAHAHAHAHA! Porca te! Che le streghe venivano, insomma, arse, no? Gli veniva dato poco, invece no, veniva... Avete visto? Sarà... Oh no, no, questo è un muovo lanciano incantesimo. Si deve pur dire, questa è la classica scena di un film horror. ARCO 2, infatti! C'è nessuno! Ce l'hai dietro? No, no, per favore, no! Fermi, no, no, fermi, 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 ragazzi, no, io non ce la posso fa, non ce la posso fa. No, no, ragazzi, io sono per quelli che vogliono studiare e sono curiosi. Bravo, Angela. Se non mettesse un po' il muoio, il... Oh! Il becco un po'... ARCO 2! Eh, no! No, se ci tocca ci porta indietro. ARCO 2! Tiratemi fuori! Ci proviamo! Ehi? Che c'è? E' il topo! Guarda, mua, eh! Guarda, mua, guarda! Sci-dua! Hippie-tac! Roba da hippie! Sci-dua! Sci-dua! No, 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 no! Oh, sta vecchiaccia! Corvù! Vabbè, dai, è easy, che c'è, c'è, non c'è povuto niente. Oh! Eccolo, eccolo! Andiamo via! No! Daniel! Via! Oh no, oh no, oh no. È disgustoso! Oh no. Ragazzi! C'è famo, c'è famo, c'è famo. E adesso che si vede la differenza tra gli uomini e i ragazzini. Ma parco su! Ma... o guarda lo sapevo gatto maledetto ma sappiamo come finirà giusto di certo Quei mocassini Ma che cosa Ehi vacci più piano Non si picchiano i manichini Simpatica Su vieni dentro Fanno paura Oddio mio C'è la bambina C'è la bambina C'è la bambina Oh cazzo C'ho due Ma guarda guarda Ma hanno scritto in questo momento sul telefono Si parliamo in inglesa Si Vaffanculo mi sono fatto male Ehi piccola Sei qui Si si sta qua sta qua E' un muso cauzze amare Ma che cazzo Ma che cazzo è Aspetta che si fa giorno Oh cazzo Porco dove sei matta Ma che cazzo vai Porco Sa sognà Porco due gioi Ok 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 ragazzi Eh lo sapevo Salve di occhio alle finestre Sexy lady Dai cavolo Ce l'ho troppo alta sta musica Ragazzi ti abbassa No mo lo piglia 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 Sicuro Cento per cento Ma che cazzo 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 Guarda mo eh Guarda il fenomeno strano No 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 Fanculo a questo Ehi Quell'incidente Ma che cazzo Ma che cazzo Guarda là Perdo due Tempo per cosa Ucci due No 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 Levati 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 Muore 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 Sta arrivando Sta arrivando Il cucù E mi ha messo paura Eh mo mi fa cucù A me guarda eh Cucù Eh che mo lo tiro su E succede il panico Nooo Bambina di merda Scusate eh Scusate eh Ma la cosa più importante È che siamo ancora vivi Oh Ciao a tutti Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Nooo Nooo